Io credo che a Berlusconi non interessa il riconoscimento delle coppie formate da persone stesso sesso, Berlusconi interessa eliminare Alfano dall'aspetto politico e soprattutto rendersi disponibile a nuovo alleato di Renzi in questo continuo reiterarsi del modello delle larghe intese. Leggo le evidenze, leggo i fatti, all'uscita della cena di Berlusconi con Vladimir Luxuria il comunicato stamper ha firmato la Luxuria e non da Berlusconi, quindi l'impegno l'aveva preso lei e non lui. Attendo alla prova dei fatti questi politici, attendo che il gruppo parlamentare di Forza Italia corrisponda a questi slanci del proprio leader, per ora non è così. Oggi mi ha molto colpito leggere nella rassegna stampa i commenti degli azzurri, dei forzisti, degli amici di Berlusconi che davano del lui a Vladimir Luxuria e quindi con molta malinconia prendo atto che il primo risultato, il più banale, quello di riconoscimento dell'altro non è stato raggiunto. Dal punto di vista della lotta per i diritti del LGBT secondo lei è un autogol? Non credo che stiamo parlando di un autogol, certo stiamo parlando di una grande strumentalizzazione, cioè di un uso di una tematica a fini elettoralistici, a fine di una creazione di consenso attorno a un personaggio che di quel consenso fa un uso terribile e vent'anni di storia italiana ce lo devono dimostrare. Non credo che parlare con Berlusconi significhi interloquire con la destra, credo che significhi piuttosto resuscitare un pezzo di politica che volevamo in realtà dare per ormai smaltita. Luxuria probabilmente ha rimosso dei pezzi della sua storia politica che riguardano il suo incontro-scontro con Forza Italia, parlo per esempio dell'incontro-scontro con Elisabetta Gardini sull'uso dei bagni pubblici del Parlamento e mi ha molto incuriosito poi leggere sui giornali, una volta che lei è stata sollecitata su questo tema, la naturalezza con cui lei dice ma ormai io e Elisabetta siamo amiche, ecco è brutto quando il politico diventa personale, non il personale politico, non è il problema di luxuria che andava risolto, andava risolto il riconoscimento politico di un'intera parte del Parlamento nei confronti delle persone gay, lesbiche e trans. Grazie a tutti.